Il Cardinal Lacunza è l'arcivescovo della diocesi di David a Panama. Da quando Papa Francesco, due anni fa, annunciò che la prossima giornata mondiale della gioventù si sarebbe tenuta proprio a Panama, il Cardinal Lacunza sta lavorando senza sosta affinché tutto sia pronto. Mancano appena sei mesi e tantissimi giovani provenienti da tutto il mondo arriveranno a Panama, un paese dell'America centrale che conta poco più di 4 milioni di abitanti. Ogni volta che il Cardinal Lacunza va a Roma per i suoi impegni istituzionali, fa sempre visita alla parrocchia di San Giuseppe da Copertino, chiesa di cui è titolare. È lì che lo abbiamo incontrato. Secondo i nostri calcoli arriveranno circa 500 mila giovani pellegrini, molto probabilmente ne arriveranno altri che parteciperanno agli eventi della giornata mondiale della gioventù, senza iscriversi però al sito ufficiale. Nella mia diocesi stiamo lavorando per accogliere circa 15 mila giovani. Qual è il messaggio che lei vorrebbe che uscisse da questa giornata mondiale della gioventù? All'appuntamento della giornata mondiale della gioventù ci si arriverà facendo confluire il lavoro svolto durante il sinodo dei giovani. Credo che la giornata mondiale della gioventù avrà già una prospettiva grazie proprio al sinodo. A me piacerebbe molto, non so se sarà possibile perché tra ottobre e gennaio c'è poco tempo, mi piacerebbe molto che il Papa presentasse l'esortazione apostolica proprio a Panama, che dicesse ecco, questo è il risultato del sinodo, questo è l'accordo tra la Chiesa e i giovani. Non possiamo perdere tempo perché la Chiesa deve recuperare i giovani. Prima sono andato a salutare qui in parrocchia i ragazzi che si stanno preparando alla cresima e purtroppo è diventato il sacramento dell'arrivederci. Ricevono la cresima e poi spariscono. Noi abbiamo l'obbligo morale di invertire questa tendenza, ci dobbiamo inventare qualcosa per far sentire questi giovani al loro agio all'interno della Chiesa. Adesso evidentemente non è così. Eminenza, è contento che una delegazione, una piccola delegazione di questa parrocchia, della sua parrocchia, verrà a Panama? Spero che sì, ojalá che lleguen. Li aspettiamo, ovviamente saranno accolti nella mia diocesi. La nostra diocesi, poi, lo attenderemo con moltissimo gusto.